Grazie a tutti. In Molise il PIL cresce più che altrove. I dati nell'anticipazione del rapporto Svimez, la regione nel 2018, fa registrare un incremento dell'1%, la media del paese è 0,9%. Bene l'industria con il più 5,4% e i servizi più 0,7%. Soffrono agricoltura e costruzioni. Italia a due velocità si allarga il divario nord-sud. Ma Toma non è soddisfatto. Penso che possiamo e dobbiamo fare meglio. Nel 2019 raccoglieremo i frutti degli investimenti che abbiamo attivato. Il punto a firma di Vittorio Senese, Sanità e il Molise si salva con l'integrazione pubblico-privato. Caso Cesari del Ministro risponde all'interrogazione. Falle nella rete di emergenza. Male il turismo balneare, meno 10% rispetto all'anno scorso. Due le cause secondo il Sib. Meteo e congiuntura economica. Travolto da un camion è morto l'operaio di Vasto. È accaduto sulla A14. Venafro, CIS, clamoroso, dal PD. Non risultano progetti agli atti. Sanità pubblica più attrattiva. Il nuovo piano operativo punta sull'elisoccorso. Federico 5 Stelle. I molisani non saranno mai cittadini di serie B. Intanto il Governo autorizza una clinica privata sarda a spendere di più per i pazienti extra-regionali. È su borse di studio di Baggio 3 milioni per gli universitari. Poi lo sport con il Campobasso in ascesa. Mister, direttore sportivo soddisfatti. Ulteriore riscontro sarà quello col Bacigalupo-Basto Marina. Eccellenza svolta a Isernia. Squadra iscritta. Giannini è il nuovo presidente. Promozione Trivento da Pole Position. Quattro grandi colpi per il team Trignino. Nuoto estivi di categoria. Al Foro Italico. Una undicesima piazza per Lara Buondonno. Il quotidiano del Molise. Sanità. Il ministro certifica le criticità nella rete dell'emergenza. Urgenza. La Grillo rispondendo all'interrogazione sul caso cesarei dei problemi nell'organizzazione sanitaria. Federico svela alcuni punti del nuovo programma operativo. Cittadinanza attiva torna in pressing per la necessità dell'elisoccorso. Fuga dalla regione. La percentuale di chi va via supera anche la quota di immigrati. Lo Svimez certifica un Molise a passo lento. Negli ultimi dieci anni persi 20 punti percentuali di prodotto interno lordo. Nuova strada per il cratere. Presto la svolta per la viabilità. Campobasso. Stipendi fermi. La protesta delle guardie giurate. È su quasi 3 milioni per gli studenti universitari. Scuola e missioni in ruolo. 192 posti in Molise. Piana di Venafro. Inquinamento. Interrogazione ai ministri. Palazzo San Giorgio dal 15 agosto fino all'autunno per gli eventi estivi. Morte di Paolo San Gregorio. La lettera dei familiari. Solo una tragica fatalità. Sport. Campobasso. Danilo Alessandro e la scelta dei rosso-blu. Arrivo in una piazza ambiziosa. Eccellenza Lisernia si iscrive sul Gong. Il nuovo presidente Vincenzo Giannini. Tennis. I giovani del Boiano sfiorano il colpaccio ai campionati italiani di Messina. Ed ora invece le testate nazionali. Il giornale Via Toti Carfagna si sfila. Il governatore lascia il partito. Lei fa un passo di lato. coordinamento a Tajani, Gelmini, Bernini e Giacomoni. Il PD torna. PDS ormai è solo il partito dello straniero. Zingaracce e giornalisti. Ora Salvini sbrocca con tutti e la maggioranza si spacca pure sulla giustizia. Sud condannato a sopravvivere nel sommerso e l'epitaffio dello svimez. All'analisi sulla politica, quei nervi tesi e la strategia dei toni più alti. Andiamo sul Corriere della Sera. Voto Salvini avverte il Movimento 5 Stelle. La strategia del vicepremier dopo una giornata all'assalto di alleati, migranti e cronisti. Ora una manovra coraggiosa o il coraggio lo chiederemo agli italiani. Zingaretti, leader del PD, dice ai 5 Stelle, dialogo solo con gli elettori. Forza Italia, Berlusconi a zero ai vertici e Toti, lascia. Conte, preme sulla Lega per il commissario UE. Il retroscena, non mi farò logorare. Mosca, la ragazza che sfida Putin leggendo la Costituzione. Olga, la vediamo in questa foto, ha 17 anni, apre il libro davanti ai poliziotti antisommossa. Roma, i 24 minuti misteriosi degli arrestati. Carabiniere ucciso, ecco la ricostruzione. Andiamo su Repubblica. Il bavaglio di Salvini. Il ministro non risponde al videomaker di Repubblica. Poi lo insulta. Vada a filmare i bambini spiaggia, visto che le piace tanto. Zingaretti continua a scappare. La sua arroganza è un segno di debolezza. Giustizia, niente accordo. Movimento 5 Stelle, i leghisti come Berlusconi. Fuga dal sud che affonda. Un paese spezzato in due. In 15 anni, 2 milioni di persone emigrate nelle regioni settentrionali. Ormai impossibile trovare un lavoro. Gli operai del nord tra Lega e CGL viaggiano nei cantieri dove vota a destra anche chi ha la tessera del sindacato. È una politica che parla come noi. Il messaggero, giustizia e UE, la miccia di Salvini. Il vice premier, se mi stufo la parola agli italiani. Bonafede tenta l'ultima mediazione sulla riforma. L'agguato a Cercello, un buco di 24 minuti nelle mosse dei killer. Le carte. Il carabiniero ucciso era in servizio. Il PM vuole le telefonate di tutti i protagonisti. Ebola spaventa il Ruanda. Frontiere chiuse. Allarme per l'epidemia. In Congo ha già provocato. 1.800 morti. Il sole 24 ore. Voto anticipato per il 72% degli italiani. Preferisce le urne il 58% degli elettori leghisti. Contrario solo i votanti Movimento 5 Stelle. La Lega raccoglie il 38,9% dei consensi. Lieve calo PD cede il Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia supera Forza Italia. Nomine UE spunta Garavaglia. Nel vertice si parlerà dell'esecutivo comunitario oltre che di conti pubblici. Per ora nessuna candidatura ufficiale. Possibile anche l'indicazione di una donna. CDP sblocca Progetto Italia. Arriva il Via Libera al piano per le costruzioni. Andiamo in chiusura con la Gazzetta dello Sport. Espulso. Scontro totale. Icardi Inter. Marotta. Qui non giochi più. Banda. Pensa di fare causa. Cinque giorni per un sì. Braccio di ferro di Bala Juve. Contatti con Paratici e Sarri. Paolo tenuto in vacanza forzata. Altro scambio. Danilo e soldi per Cancelo. Correa firma il patto col diavolo. Nuovo incontro. Vuole soltanto il Milan. E si tratta con l'Atletico. La rivoluzione rosso-nera prosegue. L'obiettivo è un superattacco. Prima di salutarci vediamo quali sono i programmi che andranno in onda oggi sulla nostra rete. A partire dalle 11 Molise Sport, alle 12 Viva la Musica, alle 13 Camminando Molise, alle 14 Torna l'informazione in diretta con il nostro telegiornale. Alle 16 Molise Sport, 17.30 Paese Mio, 19.30 ancora in diretta l'informazione. Alle 21 Contola Rovescia, alle 23 l'ultimo appuntamento con il telegiornale. È tutto anche per questa mattina. Grazie come sempre per averci seguito. Arrivederci.